2-1-0-5-1 Enzo Ne è passato di tempo E tu chi sei? Lorenzo Ma in genere gli amici mi chiamano Enzo Ah, scherzavo, io non ho amici Enzo è un vampiro della Agustin Le nostre celle erano vicine Abbiamo un appuntamento con Wes Maxfield, lo conosci? E questa è la prima cosa che mi chiedi Non come stai, come sei sopravvissuto all'incendio dove ti ho abbandonato Qualcuno mi può dire che cosa sta succedendo qui? Molto volentieri, sedetevi Aspetto da 70 anni di poter raccontare la mia storia Av súper Iscriviti al nostro canale